Sarà dura, sarà veramente dura realizzare questo video, è la trentesima volta che ci provo ma non riesco a trovare le parole perché dopo una sconfitta così amara contro il Palace per me è difficile anche spiegare i voti che ho dato. Ovviamente sono tutti bassi, ci sono dei calciatori che a parer mio si sono salvati ma in generale ragazzi sono praticamente tutte insufficienze gravissime e vi dico la verità neanche lo volevo fare questo video perché trovo difficoltà. Lo sapete a me piace essere molto obiettivo soprattutto in questo format qua e non mi piace quindi dare dei voti troppo troppo bassi ma sono costretto, sono costretto a farlo. Questo video sarà pieno zeppo di critiche, sarà pieno zeppo, concedetemi il termine, di cattiverie. Io prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciate like a questo video per supportare me ragazzi, supportate me tifoso e lo United che ogni giorno, ogni weekend soffre. Partiamo dal portiere Onana, voto 4 e mezzo ragazzi, per me neanche se lo merita il voto così basso perché alla fine qualche parata lui la realizza ma prende 4 gol. Io non posso dargli 6, non posso dargli 5, sono costretto a dargli 4 e mezzo perché vuoi non vuoi 4 gol appresi. Io non voglio spendere ulteriori parole su Onana perché già ho sentito parecchi tifosi lo United criticare la prestazione Onana quando Onana subisce 20 tiri a partita. Quindi anche, cioè, c'è fosse De Gea, nella partita contro il Palace c'è fosse stato De Gea, ma il risultato non cambiava perché tanto quando tu subisci tutti sti tiri i gol li prendi, cioè, a meno che non c'è i buffoni tra i pali, ma buffoni ne nasce uno su un milione, quindi Onana non è buffoni, l'abbiamo detto molteplici volte, 4 e mezzo. Non dico nient'altro, non dico nient'altro perché non voglio perdere tempo. Wambisaga 3 e mezzo, io che, 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 che non devo essere cattivo, non devo essere cattivo, non devo essere troppo cattivo. Comunque, Wambisaga 3 e mezzo, credo che siamo tutti d'accordo, credo che siamo tutti d'accordo. Ha fatto una prestazione orrenda, orrenda, oscena, tutti i termini brutti, li attribuisco alla prestazione di Wambisaga che è stata orrenda. 3 e mezzo, e non è anche qui, non voglio spendere tante parole perché ha fatto schifo nella fase difensiva e nella fase offensiva. È inutile in entrambe le fasi, questo se ne deve andare, se ne deve andare, se ne deve andare. In prima possibile, spero vivamente, che nella prossima sessione estiva uno di quelli che si andrà via per primo è proprio Wambisaga. Proseguiamo perché anche qui non voglio spendere ulteriori parole. Wambisaga 4, a me dispiace perché io gli voglio bene, addirittura uscita fuori la notizia che lui non era neanche fisicamente pronto per giocare questa partita, perché era rientrato da poco da un infortunio e non era ancora al 100%, ma Tenac è stato costretto a metterlo in campo perché non c'era a disposizione nessun difensore. Forse, forse, e dico forse, era meglio ficcace natro centrocampista lì perché Dan Evans ne ha fatti, e ne ha fatti tanti, è stato anche lui osceno, ma non me la sento di dargli un voto più basso del 4, perché alla fine va contestualizzato dal momento deforma. Un giocatore che non doveva giocare titolare nel Manchester United. Evans era stato preso come quarto centrale, come quarta opzione, se non quinta. Io la reputavo quinta opzione, l'ho sempre reputato una quinta opzione, perché per me il show da difensore centrale era meglio, eppure per Tenac credo che, cioè Tenac credo che preferiva proprio show da difensore centrale. Quindi una quinta scelta che quest'anno ha giocato più volte titolare in confronto a Lisandro Martinez, e addirittura non so quante presenze abbia, cioè se io vado a confrontare le presenze che ha fatto Evans e quelle di Varane, non so quanta differenza ci sia. Quindi addirittura lo United gioca con la quinta scelta, mezza infortunata, titolare. Cioè io che gli posso fare a sto ragazzo? Che gli posso dire? Il quattro se lo prende tutto perché fa delle cagate pazzesche, ma ovviamente il peggiore in campo, il peggiore del reparto difensivo, il peggiore da ormai tre mesi, Casemiro! Mio Dio che schifo! Io ragazzi, quando ho finito a registrare il post partita, adesso sono andato a dormire con estrema difficoltà dopo la sconfitta, perché io faccio difficoltà a dormire quando lo United perde, dopo mi sono un attimo, il giorno seguente, la mattina, mi sono svegliato presto proprio per riguardare qualche piccolo spezzone della partita di Casemiro, perché non ci potevo credere a quello che avevo visto. Vi dico sinceramente la verità, non ci potevo credere, non ci potevo credere, ma ho rivisto, ho rivisto la prestazione e addirittura ho visto cose pessime che il mio corpo, i miei occhi, la mia testa avevano eliminato. Cioè ragazzi, una roba che mi viene da ride, mi viene da ride perché noi a questo gli diamo una tonnellata di soldi, una tonnellata, ormai è a fine carriera, faremo fatica addirittura a venderlo quest'estate, ve lo dico io, ve lo dice Jarno, che faremo addirittura fatica a venderlo, perché prende un ingaggio spropositato e il prezzo del cartellino non è basso, quindi a meno che lo United non lo regala a una squadra araba, per me questo sarà veramente difficile mandarlo via. È un giocatore in fase calante che doveva andare via quest'estate, io l'ho accennata questa cosa più volte, cioè nel momento in cui ti arriva una squadra araba che ti offre 35-40 milioni per uno che ha superato i 30 anni d'età, ma non lo vendi? Ma non lo vendi? Ma questo è sempre il discorso dell'incompetenza che c'è all'interno del Manchester United, le persone incompetenti sono tante e quindi non sanno gestire, uno critica lo United per gli acquisti, il problema è lo United, non sono solo gli acquisti, sono le cessioni, lo United non sa vendere, non sa vendere, un giocatore come Casemiro, con quella cifra che c'era stata proposta dall'Alial o dall'Al Nasser, non mi ricordo comunque sia in Arabia, andava venduto, andava venduto, solo che i tifosi, no ma Casemiro, Casemiro è un giocatore eccezionale, ha fatto la storia e tutto quanto, ma noi tifosi dobbiamo guardare al bene del club, quei 40 milioni sommati poi al monte in gaggi che questo prende, e non voglio neanche andarlo a guardare, supererà i 10 milioni, neanche mi ricordo, 15, 17, scrivetemelo nei commenti, cioè tra il monte in gaggi e la cessione dei soldi che ti arriva del cartellino, tu sicuramente potevi investirli per prendere un giocatore molto, ma molto più forte di Casemiro quest'anno, invece si è fatta la decisione di farlo rimanere, hanno deciso di farlo rimanere, e questo è il risultato, il giocatore è finito, che si è operato, è finito ancora più velocemente, perché l'operazione l'ha finito ancora prima, cioè, già era in fase calante l'anno scorso, con l'operazione, la sua fase calante si è velocizzata, è un giocatore ormai inutile, e faremo fatica a venderlo, ve lo dico io, la prestazione ragazzi, se commenta da sola, se commenta da sola, cioè letteralmente, lì si è giocatore eccezionale, ma Casemiro l'ha lasciato completamente libero di fare quello che vuole, e c'è poco da dire, voto 3, Dalò voto 5, eccola, questa è la prima insufficienza, un po' più alta, ho voluto da 5 a Dalò, ve dico sinceramente la verità, perché non me la sentivo, ti dà un altro 4 e mezzo, guardate che roba, ho dato 4 e mezzo a Nanna, 3 e mezzo a Wanbissaka, 3 a Casemiro, non me la so sentite, ti dà un voto sotto al 5 a Dalò, ha fatto una prestazione, ripeto, brutta, però in generale, tra quegli altri, quello che si salva di più, è quello che ha messo più in difficoltà, Ese, quindi il 5, per me, se lo prende, Eriksen, ma questo pure, allora, anche qua, sbattiamo sempre sullo stesso discorso, è inutile, è diventato un giocatore inutile, pesa nel Montingaggi, pesa come giocatore, perché poi rompe pure il cazzo che vuole giocare, è un giocatore che anche, contro il Palace, ha fatto schifo, ha fatto schifo, perché quando affronta squadre rapide e veloci, lui non deve scendere in campo, Eriksen era la quarta scelta a centrocampo, ci siamo ritrovati a farlo giocare nuovamente tutte le partite, anche quelle dove lui non deve scendere in campo, perché lo United è pieno al zeppo di infortuni, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? E io, che gli devo dire? Io non me la sento neanche di dire che cammina, perché fa apposta, anche se a me, mi dà sta sensazione ragazzi, soprattutto, cioè, Casemiro Eriksen, nella partita col Palace, mi hanno dato proprio la sensazione, non che non corrono perché non riescono a stare al ritmo della partita, non corrono proprio, perché non gliene va, io ho sta cosa, ho sta sensazione, poi voi mi direte, no Eriksen non è il tipo, però a me ragazzi mi hanno dato questa sensazione qua, mi hanno dato la sensazione di un giocatore che non c'ha più voglia, che sa che lascerà lo United, e quindi non dà più niente, stesso discorso con Wan-Bi Saga, quindi, c'è poco da dire, Eriksen voto 4, ha perso tutti i palloni giocabili, ha sbagliato tutti i passaggi che ha provato a realizzare, è stato sceno dai ragazzi, è stato sceno, orribile, giocatore che si salva, è Copi Manino, voto 6, a me è piaciuto, è piaciuto, ha fatto delle sbavature qua e là, ma delle sbavature che un po' possiamo dire, è stato costretto a farle, perché quando la squadra e i compagni non corrono, lui non è che può correre il triplo pure per gli altri, quindi a fare qualche sbavatura, realizza qualche piccolo errore, ma in generale per me la prestazione è da 6, è un giocatore con cui, cioè è un giocatore che il Manchester United deve trattenere assolutamente, deve costruirci il futuro, perché questo è un ragazzo veramente di tanto tanto talento, ed è un ragazzo con tanta professionalità, ed è stato uno dei pochi ragazzi che al novantesimo ancora correva, cioè sotto dei 4 a 0, lo United ormai non poteva dire più nulla, non poteva far più nulla, copy, e vedremo poi un altro ragazzo, al novantesimo, correvano destra, sinistra, sinistra, destra, per recuperare più palloni, chiedevano la palla tra i piedi, perché volevano almeno segnare il gol del 4 a 1, perché tengono alla maglia che indossano, tengono alla maglia che indossano, ok? Voto 6 comunque, proseguiamo, mamma mia che cimitero, Mount voto 5, è partito bene all'inizio, poi si è spento, ma io anche qui non è che gli posso di tanto, gli ho dato 5, perché alla fine lui fa qualcosina di più di Evans, perché andando a confrontare, entrambi rientravano da degli infortuni importanti, Mount è stata la prima presenza titolare, dopo veramente tantissimo tempo, però gli ho dato un po' di più di Evans, perché Mount nel primo tempo realizza qualcosa, fa qualcosa, tenta, anche dell'atteggiamento, mi è piaciuto che urlava i compagni quando vedeva che erano in difficoltà, più che in difficoltà che non correvano, quindi in generale a me non mi è dispiaciuto, poi se lo devi mettere in mezzo a sto contesto, in mezzo a sta partita, tu abbiamo piato 4 gol, è normale che la sufficienza non ha, quindi voto 5, proseguiamo con Anthony, 4 e mezzo, voi l'avete visto? io non l'ho visto, questo è per quelli che mi dicono che io Anthony lo difendo a spada tratta, no, Anthony, io lo difendo quando va difeso, quando va criticato va criticato, non insultato, criticato, Anthony va criticato perché sta partita qua, perché non, io posso capire che stai in difficoltà, che la squadra è in difficoltà, prendi 4 gol, tutto quello che vuoi, non è facile, però non è possibile che ti assenti completamente dal gioco per tutta la partita, cioè ragazzi, questa ha fatto un tiro, e poi non ha fatto nient'altro, tutti i palloni che ha passato, tutti sbagliati, giocatore sconcentrato, addirittura adesso ha smesso pure lui di correre, scappata fuori una notizia, dove all'interno di un gruppo whatsapp, con altri giocatori, lo United, dentro ne ha chiamato pelato, tenacca, cioè delle cose che lasciamo perdere, delle robe che non so neanche se vere, sono scappate fuori dopo la partita, se so vere, questo pure deve fare le valice, se non so vere, puretto lui che se la prendono sempre con, cioè tutti se la prendono con Anthony, quando succede che lo United perde, tutti cacciano fuori storie su Anthony, comunque prestazione o scena, prestazione o scena, assente completamente, ripeto, 4 e mezzo, Garnaccio, ecco, gli unici due che si salvano, mai no, è Garnaccio, e fateci caso sui unici due che provengono da dove? Dalla primavera, io so sicuro che se nella partita contro il Palace avesse giocato Kambalà era un altro 6, anche 4 gol presi, cioè che la partita finisce 4-0 come è finita, realmente io so sicuro che Kambalà io gli avrei dato 6, perché questi sono giocatori che lottano per la maglia che indossano, perché sono cresciuti all'interno del Manchester United, aperta parentesi, tranne Rashford, chiusa parentesi, lo stesso io adesso ripesco Greenwood, Greenwood nei momenti di difficoltà, perché a me piaceva più Greenwood che Rashford, chi segue questo canale da tanto tempo lo sa che io avevo una preferenza su Greenwood, preferivo molto di più Greenwood a Rashford, perché Greenwood nei momenti di difficoltà, quando lo United non girava, lui comunque sia qualcosa faceva, perché teneva, si vedeva che teneva la maglia, teneva la squadra, la stessa cosa io la rivedo in Garnaccio e mai no, sono due giocatori che tengono la maglia che indossano e quindi lottano a destra e a sinistra, Garnaccio ci ha provato ragazzi, Garnaccio ci ha provato, poi non gli si può chiedere a sto Cristiano cioè io non posso criticarlo e di non ha affatto difficoltà, ogni volta che passava il pallone provava appunto a due o tre uomini perché era sempre da solo e addirittura in alcune circostanze ha creato pure qualche occasione pericolosa, però ragazzi ha 19 anni, è un ragazzetto che è la prima stagione dove gioca titolare in maniera consecutiva, ma di che cazzo stiamo parlando, non è lui che deve trascinare sta squadra, non è lui quindi voto 6 io so sicuro che queste partite qua perché bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno queste partite qua aiuteranno Garnaccio e Coppi a crescere perché queste batoste mentalmente ti rimangono e ti fanno crescere ti costruiscono quella mentalità che ai giocatori giovani manca quindi l'unica cosa positiva per me è questa comunque a me Garnaccio e Coppi sono piaciuti dite voi qual è stato per voi il migliore in campo per me è stato Garnaccio perché ci ha provato un po' di più Hoylund voto 4 e mezzo non commento io 4 e mezzo glielo do perché non ciappa un pallone non gli arriva una palla raga che gli devo fare non mi sono stufato anche di difenderlo ma non perché non va difeso Hoylund va difeso ma sbattiamo sempre sullo stesso discorso alla fine passo per scemo capito il discorso è quello passo per scemo non me ne fate passare per scemo Hoylund 4 e mezzo perché non ciappa una palla non gli arriva un pallone non gli arriva un pallone giocabile come fa? ci credo che Rick Tenag voleva Enrique Hinn ci credo perché Enrique Hinn è un giocatore di 30 anni che quando vede che la palla non gli arriva scende a centro campo gestisce come un regista aggiunto Hoylund è ancora un giocatore troppo giovane perché chiede chiede fa quello che fa è Regain quindi io gli do 4 e mezzo perché è stato assente in generale ma non per colpa sua non per colpa sua i panghinari non li fico nemmeno non li fico non me ne vado a metterli perché sono entrati in una partita orribile quindi non li voglio nemmeno valutare poracci loro che sono entrati te neanche voto 4 le scelte sbagliate ce stanno le scelte sbagliate ce stanno perché adesso col senno del poi uno dice eh vabbè è facile parlare no? come se dice Gergo però la realtà dei fatti è che se non avesse giocato Ivan se avesse giocato un altro giocatore della primavera se avesse giocato un altro terzino invece che Guambisaga un terzino della primavera io non credo che avesse cioè io non credo che la situazione sarebbe peggiorata sto convinto di questa cosa Tenagli ci ha imparato che nei momenti di difficoltà non si fa problemi al lancio i giovani però adesso fa delle difficoltà a lanciare dei nuovi giocatori giovani e non capisco il perché cioè se tu vedi che Guambisaga non corre non hai altre opzioni butta dentro un giocatore delle giovanili anche perché te li sei portati buttali dentro provaci poi ci sta provando con quel ragazzetto quell'attaccante che adesso mi sfugge il nome e ci sta come cosa però per me anche altri possono andare in panchina cioè Ericsson a sto punto per me va messo in panchina se non ci stanno altre opzioni c'è Ambra Bat ma Ambra Bat ormai è finita quindi è inutile citarlo butta dentro un altro ragazzo tanto persa per persa a sto punto dai fiato fai corre a chi se lo merita perché sono sicuro che se tu butti dentro un altro ragazzino quel ragazzino corre di più di quell'altro quindi forse a livello tecnico è inferiore ma con la voglia con l'audace con la professionalità riesce a raggiungere i livelli di questo Ericsson i livelli di questo Casemiro che sono ormai giocatori mediocri perché Casemiro per me fa difficoltà addirittura a giocare nel Palace cioè in una squadra come il Palace Casemiro non gioca titolare rendetevi conto io non ho nient'altro da dire ragazzi lo so più brevi del previsto queste pacelle ma che vedevo di che vedevo di cioè mi è mancato Meguayer a me rendiamoci conto a che livello siamo arrivati io non gioco parole vi saluto fatemi sapere la vostra nei commenti e alla prossima gente